Grazie, Presidente. Signor Ministro, durante queste prime settimane del 2016 le incertezze del mercato finanziario sono state amplificate in Italia dalla particolare situazione dei nostri istituti di credito, nei quali la percentuale dei crediti deteriorati sul totale degli impieghi è del 17%, il quadruplo della media delle banche europee. Il permanere di questa situazione rischia di compromettere la traiettoria di ripresa economica imboccata al nostro Paese, visto che il sistema bancario appesantito dai crediti inesigibili non riesce a svolgere la sua funzione essenziale, e cioè prestare soldi per far crescere l'economia. Da tempo si è individuata la soluzione al problema in una serie di azioni, in parte già messe in campo dal Governo e in parte ad attuare, come la cosiddetta Bad Bank, oggetto di negoziato con la Commissione europea. Proprio in relazione all'ultimo confronto che l'ha avuto con la commissaria alla concorrenza, le chiediamo, oltre naturalmente ai tempi di attuazione e contenuti dell'accordo raggiunto, in particolare se questo permetterà alle banche di far uscire dai propri bilanci questi crediti deteriorati, senza avere impatti significativi sul capitale e senza mettere a repentaglio la loro solidità. Grazie, onorevole Petrini. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze Pado ha una facoltà di rispondere. Grazie, Presidente. Grazie agli onorevoli interroganti. Colgo questa occasione per ricordare, ma lo ricordava anche lei, che fin dal 2014 il Governo affronta la questione delle sofferenze bancarie con una prospettiva strutturale nel solco della strategia delle riforme. Siamo intervenuti per favorire il consolidamento del settore attraverso la riforma delle banche popolari più grandi, la riforma delle fondazioni bancarie, la prossima riforma delle banche di credito cooperativo. Banchi più grandi, più forti e più trasparenti gestiranno con più efficienza i crediti deteriorati. Siamo intervenuti per ridurre i tempi di recupero dei crediti, in Italia storicamente più alti che altrove. L'implementazione del processo civile telematico e dei tribunali di impresa sta producendo ottimi risultati. Nel 2015 abbiamo introdotto una prima revisione delle procedure concorsuali e stiamo per introdurre altre misure in questa direzione, in attesa della più ampia riforma della legge fallimentare in corso di elaborazione.